Un saluto dallo Stato di San Vito di Rocca Bernarda da Fabio Caressa e Beppe Pergo. Vai Beppe. Allora amici sportivi siamo all'ultima giornata di campionato di andata tra il Rea Rocca Bernarda e il Casabona. Il Casabona ricordiamo che è in primo posto. Rocca Bernarda, Fabio. E la quarta, quarta mi pare, quarta o quinta. Quarta o quinta in classifica. Qua ti aspetti oggi? E' una bella partita oggi sarà. No, no, quello che vedremo sul campo poi come si svolge la situazione. Sarà una bella partita. Il Rocca Bernarda gioca dalla destra. Sì. Verso la sinistra dei vostri teleschermi. In tenuta. Dalla sinistra a destra dei vostri teleschermi. Però è pericoloso, pericoloso. Gol, gol del numero 8. Balsamo. Su faccia di punizione. In vantaggio il Casabona. Al trentesimo, trentaduesimo. Dece, venti, cento. Allora, se si è metto in giro, se lo fate niente parella. Dieci, venti, trenti. Cento gol, tra la portiera. Cento, cento, gol. A presto, tra la portiera. In vantaggio il Casabona. Grazie, dietro. Alla? Quarantesimo. Il numero 7. Vai, vai, vai. Grazie. Guardi Giannini! Sono andato. Chi ci vende tre? Scorza! Cuaranzo. Dai, ciao. Giannini! Provo, bravi, bravi. Io ando in corpo di testa e metto il red alla destra. unftissimo. Parità. Parità. Quasi finire del primo tempo. Ancena finalmente Ancena, un'altra cosa porta vanno! Bellissima azione, tira, niente da fare, grande parata di Pugliese, grande parata di Pugliese! E il Casabona, Turano ha dimostrato il grande intervento! E Giannini vai in aria! Noooo! Che c*** la merda! Mette la monna! Un gol! 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 Gural! Un gol! Un gol! Grazie a tutti.